Sono Claudio, vivo in un eco-villaggio che si chiama La Casarotta, in provincia di Cuneo, nel comune di Crasco, ai piedi delle Langhe. Ho scelto di fare questo percorso circa 5 anni fa perché ritengo che sia un'opportunità per l'individuo di trovare gli strumenti e le persone con cui evolvere, dal punto di vista personale e ci permette di fare un sacco di esperienze.